Apriamo la nostra informazione con il Bari che anche oggi si è allenato sul lungomare della città per una sorta di operazione simpatia, considerati anche gli ultimi risultati dei biancorossi. L'abbraccio di Caputo e compagni alla città continuerà anche domani. Alle 18 infatti presso il padiglione 10 della Fiera del Levante ci sarà tutta la rosa di quest'anno, ma anche le vecchie glorie del Bari, tra cui Edibivi, Bergossi e Guastella. Alla manifestazione potranno assistere anche i tifosi per i quali c'è una bella iniziativa. Chi sottoscriverà l'abbonamento al Bari domani, giovedì o venerdì con il coupon dell'abbonamento entrerà gratis in Fiera. E intanto oggi ha parlato con la stampa Attila Filcor, centrocampista che ha sostituito più che degnamente Romizzi. Sicuramente già lunedì contro il Varese sarà difficilissimo perché anche loro i primi tre partiti hanno vinto. Poi lo sappiamo bene che l'anno scorso mancava un soffio, andavano in Serie A. Poi soprattutto giochiamo lunedì, quindi sarà una bellissima partita, la giochiamo la sera. Poi andiamo a Crotone, a Crotone è difficile giocare, hanno vinto l'ultima partita, mi sa, 3-1 a casa. Là è sempre molto difficile giocare. Non lo so quello che dicono dalla casa, poi non so se riescono anche a vedermi a giocare. Io l'unica cosa che posso fare è dare il massimo inanamento poi in partita. Poi quello che dicono su di me, tanto è importante quello che do il campo, poi dopo vedete voi come sono. Sì, in particolare con Martino, con Borghese, siamo insieme dal primo giorno che mi aiuta. Poi anche gli altri sono stati bravissimi, infatti mi sembra che sto qua da anni che sto qua perché gli altri sono stati bravissimi. Poi anche che domenica soprattutto in partita mi hanno aiutato tantissimo.